Conferenza stampa d'alto contenuto tecnico nell'Aula Consigliare Sant'Agatese durante la quale sono stati dettagliatamente illustrati gli studi e gli adeguamenti tecnologici previsti e l'iter amministrativo del progetto di adeguamento e ammodernamento del depuratore consortile di Sant'Agata Militello e Acquedolci. A dettagliare l'intervento lo staff tecnico composto da RUP, ing. Giuseppe Iannazzo, ing. Salvatore Russo, progettista della società dinamica SRL, il geometra Luigi Rundo dell'Ufficio Tecnico Comunale. In aula, oltre al sindaco Bruno Mancuse, rappresentanti dell'esecutivo sant'Agatese e di Acquedolci, presente anche il comandante dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Sant'Agata Militello, tenente Michele Rossano. Come struttura commissaria abbiamo acquisito un progetto definitivo redatto da un progettista esterno per conto del comune di Sant'Agata per un importo complessivo pari a 2.586.000. La struttura di supporto al commissario, che è fornita dalla Sogesi, che è una società che fa house providing di servizi tecnici per conto del Ministero dell'Ambiente, ha rivisto il progetto. Il commissario è riapprovato a febbraio 2019 per un nuovo importo complessivo di 4.115.000. In vitalia adesso pubblicherà il bando di gara, splatterà la gara e consegnerà al commissario l'impresa appaltatrice. Da lì partiranno i lavori, la cui durata prevista in progetto è di 20 mesi, però questa durata di 20 mesi sarà messa a gara. Oggi il nuovo impianto, così come da previsione progettuale, è un impianto moderno, in cui sostanzialmente si sono mantenute le opere esistenti salvaguardabili, quindi gli edifici e parte delle linee con interventi di manutenzione straordinarie. Ma sostanzialmente è stato integrato con nuove linee e unità di depurazione, al fine di far sì che le concentrazioni dei reflui siano rispettose della normativa, ma anche del corpo recettore, rispetto al quale la normativa prevede, prescrive degli obiettivi di qualità e la tutela, soprattutto in questo caso, dell'ambiente marino costiero. Chiaramente la condotta sottomarina non avrà più alcuna funzione di trattamento di refluo. A conclusione della presentazione, il gruppo dei tecnici, accompagnati dal sindaco Mancuso, si è recato presso il depuratore di Contrada Pianetta per un sopralluogo. Il mare non ha confini amministrativi e quindi la depurazione del comune di Sant'Aga da Militello interessa tutta la costa, tutti i comuni limitrofi, e quindi sarebbe opportuno, io sarei probabilmente ancora più felice se anche gli altri comuni vicini, anche quelli dell'entroterra che scaricano nei fiumi, potessero adeguare i loro depuratori e quindi rendere una depurazione ad impatto zero.